Il titolo La finestra di fronte è stato un po' Bertolucci perché io quando ho detto volevo mettere le finestre di fronte perché erano due o tre finestre di Raul Bova che lei vede sempre e lui mi ha detto no Fersan devi chiamare la finestra di fronte perché deve essere là quella finestra, ho detto va bene chiamiamo la finestra di fronte e no no perché ho dato ragione perché lui ha sempre indovinato come vabbè come su Arem Su Arem che mi diceva chiamalo l'ultima Arem io dicevo no chiamalo Arem Su Arem non lo capisce nessuno chiamalo l'ultima Arem io dicevo no 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 Sui titoli era una lenza proprio, sui titoli era... Anch'io sui titoli però sui titoli ma anche Saturno contro... Eh sì ho capito però... Grazie